Vi siete mai chiesti come sia migliorata la qualità e la produttività delle vostre olive con questi scuoti olive? Originariamente gli agricoltori erano molto scettici all'utilizzo di questa macchina poiché preoccupati potesse rovinare il raccolto e quindi anche la qualità dell'oliva stessa mentre la tecnologia in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante per quanto riguarda lo scuoti olive rendendolo quasi ormai indispensabile per tutti gli agricoltori ma in fin dei conti come migliorano questo raccolto? Numero 1 aumento della produttività le macchine scuoti olive possono raccogliere un grandissimo numero di olive in pochissimo tempo aumentando così la produttività senza aumentare la forza lavoro Punto numero 2 il miglioramento della qualità infatti grazie a queste moderne tecnologie i scuoti olive possono raccogliere le olive con cura preservando così la qualità del raccolto Punto numero 3 la versatilità non importa quanto sia ampio il vostro terreno o alte le vostre piante i moderni scuoti olive si adattano in qualunque situazione migliorando sempre e comunque il vostro raccolto non perdere l'opportunità di migliorare e quindi facilitare la raccolta delle tue olive viene a scoprire la nostra selezione di scuoti olive quindi vi lascio i link utili in descrizione sia per l'acquisto che per tutte le informazioni inerenti al prodotto qualsiasi domanda o dubbio non esitate a contattarci per usufruire della nostra consulenza perché per noi al Marini Pro Worker la nostra consulenza è il tuo primo strumento iscriviti al nostro canale